Grazie a chi costruisce una bella Toscana, grazie a chi lavora tutti i giorni per l'integrazione dei migranti nella nostra regione. E' con queste parole che il presidente della Toscana Enrico Rossi ha salutato nella parrocchia di Vicofaro Don Massimo Biancalani, il parroco finito al centro di polemiche per il suo impegno nell'accoglienza dei migranti. E' ad accogliere il governatore della Toscana insieme a Don Biancalani e anche i giovani ospitati dalla parrocchia pistoiese. Noi abbiamo bisogno in questa regione di intensificare non solo a parole ma con fatti concreti un'opera di integrazione che è necessaria se vogliamo preparare il futuro della regione, del nostro paese, delle nostre città, dei nostri comuni. Chi opera in questo senso fa bene, contribuisce ad una società più serena, contribuisce ad una società più forte, più solida e quindi costruisce una bella Toscana che è quella che noi vogliamo, quindi sono qui per questo. Don Biancalani ha riconosciuto l'importanza che ha avuto il modello regionale dell'accoglienza, fatto di piccoli gruppi diffusi di migranti. L'idea dell'insegnamento del Presidente è importante, lo ringrazio per la vicinanza perché chiaramente in questo momento così particolare avere le istituzioni vicine ci dà coraggio nell'andare avanti in questo cammino coraggioso, di testimonianza, di testimonianza dei valori, sono valori umani ma per me anche valori evangelici. Il Presidente della Regione si è quindi augurato che intorno all'impegno di Don Biancalani ci sia, come già c'è stata, la mobilitazione dei cittadini e delle istituzioni, una lotta contro il razzismo che deve essere condivisa da tutti. Noi intanto abbiamo preso anche un impegno in Regione Toscana a ricordare tutte le stragi nazifasciste che ci sono state che hanno un segno forte di annullamento della persona, di razzismo e quindi con questo Sindaco senza altro ci troveremo a celebrare anche presto il 12 settembre gli episodi che si sono avuti qui a Pistoia. Me lo auguro, spero.